Questo è un nuovo progetto dell'Eurage, è una grandissima opportunità in un'Europa che si sta sviluppando, che è anche un po' al bivio, dove adesso o noi torniamo agli egoismi degli stati nazionali, che sicuramente per noi, sia i trittini che i polzianini, sarebbe sicuramente un grossissimo problema, o facciamo il salto di qualità, dove alla sempre maggiore centralità di Bruxelles e Strasburga si aggiunge un nuovo regionalismo, federalismo, una nuova sussidiarietà regionale. Devo dire sul piano personale i rapporti sono ottimi, io con Ugo Rossi sia a Roma che a Facebook, che a Bolzano e a Trento ovviamente ci troviamo, abbiamo proprio le stesse idee anche per quanto riguarda queste cose. Lei chiede che in questo rapporto sia più avanti tra Trento e Bolzano sia più avanti la politica, la classe dirigente, la chiesa oppure la società civile? Devo dire che forse più avanti la politica, una cosa che si può ricoperare alla politica, che non è stata in grado a coinvolgere di più la gente in queste idee, questo lo vogliamo fare adesso con la convenzione che faremo a Bolzano e anche con il modo partecipativo con il quale vogliamo ridiscutere il nostro Grund che senza la nostra norma principale, soprattutto di autonomia. Lì bisogna coinvolgere tutti e far capire che questa cosa è comune a noi tutti. E la regione si trova più vicino a Magnago che l'avrebbe anche abolita o a Durwalder che a suo tempo l'ha anche presieduta però che si sentiva un po' scomodo su quella coltrona? Noi dovremmo dare alla regione una nuova funzione, un nuovo ruolo, proprio perché si prevede anche nel progetto Euregio, di darci la posizione in Europa. Sicuramente la regione avrà un ruolo determinante in tutti i settori dove bisogna fare anche massa critica. Per esempio quando dobbiamo alzare la voce a Bruxelles o a Strasburgo, solo da qualche mesetto abbiamo adesso un progetto, questo strumento e adesso stiamo iniziando anche a riempirlo di contenuti. Abbiamo dei progetti molto ambiziosi sul settore della mobilità come anche delle energie, la stessa cosa è avvenuta per l'autonomia delle due province, si è lavorato tanto fino al 72, dal 75 al 76 in poi si è capito che le cose stavano per cambiare. La stessa cosa vale per il GECD, io credo che adesso man mano la gente capirà che sicuramente ci saranno anche le conseguenze concrete. Lei ha detto io sono per una nuova politica credibile dalla parte delle persone, anche Renzi ha fatto così. Io non mi definirei un otto amatore perché io credo che tante cose che sono state fatte sono state fatte molto bene. Bisogna cambiare dove sono cambiate anche le esigenze, le aspettative della società, ma dove è chiamata soprattutto la cornice economica, sociale, culturale. La legge del 2012 non è stata utile, necessaria, ha avuto degli effetti molto positivi, c'è stato il risparmio, senza dubbio. Nell'attuazione della legge e solo in parte anche lì, nella fase della attualizzazione degli importi, ci sono stati commessi di voi o ci sono state delle distorsioni. Quelle vanno corrette e questo lo faremo adesso nelle prossime settimane, sicuramente prima della pausa estiva. Lei il 13 gennaio è tornato un po' amareggiato da Roma dall'incontro con Bruno Vespa, eccoci, ci tornerebbe, ma al di là della trasmissione, che cosa dobbiamo far capire noi, Trentini e Alta Tesini, all'opinione pubblica italiana, che non ha ancora capito, come quella trasmissione di uno Stato. Bruno Vespa ha fatto anche un grandissimo favore sia alle due province, ma anche alla regione, perché adesso c'è questa consapevolezza che bisogna spiegare al resto d'Italia che il nostro non è un privilegio, ma è uno status che ci aiuta a gestire meglio le nostre cose. Quanto vi è utile la dimensione familiare nel fare gli stessi? Beh, innanzitutto ho avuto la fortuna di avere questa esperienza di curare i propri figli anche in modo continuo, cioè per i primi due figli ero io, sicuramente che avevo il tempo per curarmi, per me che mi voglia lavorare. Questa esperienza ovviamente mi ha fatto capire tante cose e oggi forse ho una sensibilità maggiore verso le esigenze delle famiglie, ma anche di chi sta a casa e guarda i figli e altri che non hanno mai avuto questa esperienza. Grazie. 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 Grazie.